Il giro di Agraona siamo oggi in tutto il quotidiano, tutto il quotidiano di un paese che conta appoggiare 500 abitanti, ci sono pareti con i mercati, ci sono una scuola con tre classi differenti, ma oggi siamo interessati soprattutto alla soggia che fa giocare un po' il paese e andiamo subito a scoprire alcuni fratelli di Santa Croce. Grazie. 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 Grazie a tutti i miei membri di Santa Croce, parlate di Giapia di Santa Croce. Grazie a tutti i miei membri di Santa Croce, che si faceva il paese di Paglia di Giapia 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 di Giapia, e a ripiare e a tramandare. Quali è che ti fa? Che ti fa? Che ti fa? Un lavoro oggi, mesi per l'interramento, accompagnare i morti, una processione, un battesimo, un matrimonio. Ma è di noi, il culturale, la fede, il culturale è grande e il sociale, in ii e o fordi ii. Se ti fa? Se mi fa? Ci sono anni, giovani, come potete vedere, sono le generazioni. Hai un lavoro di aiutare i ii paesi? Il lavoro sociale è aiutare i aiutare i ii, aiutare i ii paesi, aiutare i ii paesi, aiutare i ii paesi, per aiutare le situazioni. dunque, fermi in dieglie e fordi dieglie. Per la d'amore... Allora, dopo 10, andiamo qua in Corriere di Obaese, Igutu. Andiamo a scontrare il presidente dell'Assoggio della Mossa Guttulese. Do me Biancucci. Salute a me. Allora, voi siete il presidente dell'Assoggio della Mossa Guttulese. Parla di Japan e l'Assoggio. È un associo che è nato l'anno scorso, di luglio. E mi ho deciso di fare l'Assoggio perché c'è lì che mi impegna da vita del Paese. Parla di oggi siamo una decina di giovani e l'affare piano, poco a poco, cresce. Allora, che fate? Che sono le attività che voi volete? Sono attività diverse. Concorsi di buchi, giusti di ballo, girati. Parla di ciò che mi va a tutti gli Stati. Ho partecipato di nuovo. Poi, 15 anni, passiamo a fare un concorso di buchi. Aiutiamo di nuovo l'altro. Ho il scopo di essere presenti di nuovo l'inverno perché è molto importante per noi. Non ci sono stati in un paese. Ho il scopo. Ho il scopo di avere un'attività in un paese che non ci sia un'attività in un paese? È sicuro che ci sono gli scopi. Dopo ci sono le confraterni, ci sono le faiere rurale, quindi ci sono un'attività. Ci sono l'attività e ho il scopo è che l'affare che non ci sia un'attività tutta all'angalata. È un gruppo di giù? È un gruppo di giù. 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 Grazie! Ma... ... ... C'è un paese a tutti i abitanti del paese che venivano aiutare per fare una vista, un navire, una serata, un ripasto. Veniamo di noi aiutare per l'altra, come di tutti i paesi. Quando è stato creato? In 2011. In 2011 e permette di adunire tutti i abitanti del paese? In questo scopo di mantenere gli abitanti, tra i più grandi e i più grandi. In organizzare gli abitanti durante tutto l'anno. E a Avina permette di chi? Di fare una ricotta, di fare un viaggio per i più anciani del paese, un ripasto. Tutti i anni c'è, un viaggio. Un forai gossi? No, in cortica. Un parco gali, un altro. Permette di adunire il paese? Voilà, di adunire il paese. Così si compie la nostra girandola del paese di Guttoli e Corticiadu. Oggi e qui abbiamo un scontro, un po' di paesi che s'occupano di barecchia soggi del paese. Il scopo è di veramente di vacampare il paese che uscite un'attività per tutti i abitanti. Anderemo, si bruci millioni, a scopre d'altro paese per sticcocchi. Grazie a tutti.